Dov'e la mia maglietta Fam pilk だio mavera L'assassassassassassassassassassass E' un coraggioso scienziato arrabbiato che è stato cagato e purtroppo quando è arrabbiato Io non ho più experimento Ma è esco E'ato la mar las vidé Per chi ha la forza di mille uomini Che colpita Incredibile Ha veramente di super muscoli Per chi ha la forza di mille muscoli Incredibile Buona l'ora a tutti con le magliette trampling